Cominciamo un lavoro più intenso a carico dell'addome, quindi iniziamo gli esercizi classici del repertorio. Quindi cominciamo con single leg stretch e espirando sali e da qui fuori area 1, addome 3, 3 schiena a terra, 4 gambe dritte ben allineate, senti bene il lavoro qui sotto le ascelle, 6, 7, 8, respira dentro la pancia e stop e rilascia. Bene, da qui continuiamo, sempre l'addome, lavoro sull'addome, schiena ben appoggiata a terra, espiro sali e da qui allunga e disegna un cerchio e torna. In, in, ancora vai, 4, in, 5, 6, 7, gambe strette allineate, 8, ancora vai, 9 e l'ultimo, 10 e di nuovo tira le ginocchia e rilascia.